ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua per un'altra simpaticissima puntatella dedicata ai vostri orologi e siamo qua tutti in fila metaforicamente in fila per osservare cosa ci volete proporre e noi siamo qua perché ci piacciono gli orologi pezzi del ferro tutti quelli con dentro tutti quegli ingranagini piccolini che ruotano che girano che vibrano che insomma no che poi alla fine ci restituiscono l'orario e noi siamo contenti di vederlo meccanici orologi meccanici poi chiaramente anche gli orologi al quarzo hanno loro perché sono un pochino più economici nella stragrande maggioranza dei casi no ci sono anche gli orologi al quarzo costosi però a me personalmente gli orologi con dentro una l'elettricità non mi piacciono cioè se c'è un circuito elettronico oppure se c'è un cristallo al quarzo che mi definisce l'intervallo di tempo come punto di riferimento a me non interessa perché altrimenti sono buoni tutti no metto due transistor insieme un circuito integrato un chip mi restituisce l'orario è bravo sono buono anch'io così fallo un po con tutti i pezzi di ferro messi insieme è il bello no e qua ci riescono poi che i calibri ormai siano i meccanici siano standardizzati fatti no in serie puttun 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 il loro valore è quello che è poco questo è poco ma sicuro ma però io continuo a preferire gli orologi meccanici lei che li preferisce lei e lei che li preferisce gli piace vedere quando quando giro l'orologio che c'è quella massa oscillante che fa così lei si ipnotizza sta lì sgrana gli occhioni guarda la massa oscillante che fa così poi guarda il bilanciere che oscilla si fissa no e poi dopo quando si sveglia decide quale quale vuole mi piacerebbe quello là mi dice mi piacerebbe quello è capito che ti piacerebbe tanto poi sono io che devo aprire il portafoglio no giovannetta detto questo vi mostro l'orologio del giorno che è questo simpaticissimo omega acqua terra 39 mm di diametro cassa calibro 2500 con lo scappamento qua si ha le quadranti nero sfere bellissime con la freccia una sorta di brodaro non è brodaro però quella dei minuti c'è la freccia alla fine che mi fa pazzire come si vuol dire bello orologio sta anche bene no come sta sta bene sta bene si prova a dir di no e prova a dir di no ora dittino inquisitore pronto per farvi per redarguirvi vi redarguirà e quindi ora però tanto lo utilizziamo per dare il colpetto sulla barra spaziatrice e vedere un po cosa succede vai fuoco ciao davide sono marco dalla provincia di firenze questo video per aggiornarti sulla mia collezione di orologi in quanto già ti avevo inviato un annetto fa un altro video passerò in rassegna velocemente gli orologi che ti ho già mostrato per poi proseguire con i nuovi acquisti vai veloce prima di cominciare ti faccio i miei complimenti sinceri per il canale grazie contenuti che porti grazie mille allora innanzitutto i vintage gli ereditati questo è un silvana con cassa in oro anni 40 del novecento silvana mi piace silvana uno zenith anni 70 dedicato da mio babbo sempre con cassa in oro bellissimo questo 10 lo e lode questo invece è un seico un quarzo un calendario perpetuo che io ho portato a partire dagli anni 2000 all'orologio originario degli anni 90 si vede la verità ci sono molto affezionato perché l'ho portato per decine d'anni è proprio classico anni 90 stile il mio primo acquisto consapevole di un orologio automatico un emilton cachi navi pioneer si si legge anche bene per essere bianco da longjin master collection con numeri romani diciamo il difetto che posso riscontrare in questo orologio è soprattutto sulla leggibilità sulla portabilità non posso dire niente davvero comodo al polso il bracciale stupendo per cui precisione ottima per cui sono molto soddisfatto di questo orologio l'unico difettuccio che gli posso trovare che in determinati angoli in determinate angolazioni il riflesso della luce può infisciare la leggibilità ora io sono d'accordo con te perché io sono un difensore della leggibilità degli orologi no cioè se non c'è io soffro soffro però va anche detto che la leggibilità qui viene a mancare perché i numeri gli accenti gli indici sono tutti realizzati in metallo lucidato quindi tendono a scomparire sul quadrante però è anche una di quelle soluzioni adottate nel momento in cui si vuole realizzare un orologio elegante elegante no deve deve poco vedersi questa questo contrasto tra numeri e quadrante e quindi si tende a farli così per farlo scomparire proprio è proprio il suo fine ultimo quello di essere elegante quindi non si deve non deve urlare fuori no cosa che invece io preferisco però ha un suo perché va anche detto questo non è che le case orologiere si inventano le cose perché per farci un dispetto a noi almeno non lo leggi fai fatica a leggerlo con il ditino così no è perché vuole essere elegante poi loris diver 65 in questa configurazione con il quadrante verde scuro e la lunetta in bronzo carino da un paio di osservazioni su questo orologio ora che l'ho portato per per diverso tempo la corona la si la corona comporta ogni tanto qualche diciamo impuntamento problematica sul dorso della mano qualche leggerissima incisione niente di che inoltre il vetro ogni tanto tende a sporcarsi e ad appannarsi chiaramente si tratta di difetti di di poco conto è niente di niente di che per il resto orologio del quale sono estremamente soddisfatto sì ma sta cosa del vetro da corona sul dorso della mano boh a me non mi dà fastidio sinceramente prova prova a indossare il longini idroconquest poi me lo sai ridire per il discorso lì dello il vetro che si sporca o si appanna non sembra che sia panna bisogna fare così a me mi succede con il rolex explorer da 39 ogni tanto lo vedo così devo pulirlo perché mi sembra sporco e si crea questa appannare è un termine forse che un po sbagliato non corretto perché l'appannamento avviene quando c'è un un'infiltrazione di umidità all'interno quindi sarebbe grave diciamo che si sporca facilmente ma non mi ricordo io col io il diver 65 per la maggior parte del tempo lo indosso anche al mare quindi faccio fatica ad accorgermi perché capirai acqua e se lo si vive non stai a vedere se se si sta sporcando quindi non ci ho mai fatto caso il mio non mi sembra non lo so proseguo con questo orient orient kamasu mako 3 kamasu quello nuovo orient bambino bambino o bambino e alla fine devo dire è molto apprezzato esternamente pur non avendo un grande valore come orologio però devo dire che gli esterni apprezzano molto lo apprezzano molto esteticamente piace la gente che piace avevo voglia di un flieger ho comprato questo l'aco bravo aken aken l'aco poi ti mostro questo everard everard acqua 8 non mi chiedere perché si chiama acqua 8 perché ha solo 3 bar di resistenza all'acqua ma allora ma allora sei mongoloide sei acqua 8 giorni è perché 8 ma fa un po vedere è appunto c'è di essere scritto 8 giorni non è acqua 8 che cosa stai dicendo acqua 8 line vuol dire che fa parte della della famiglia degli 8 giorni e sono 8 giorni 8 cos'è 8 non essere baro sono i sono 8 giorni di carica la caratteristica principale sono gli 8 giorni di riserva di carica e nonostante abbia il quadrante bianco è molto leggibile anche al buio la pasta luminescente fa il suo dovere una citazione particolare per questo bellissimo cinturino in struzzo che rende esteticamente apprezzabile questo orologio eh sì carino dai lo struzzo su questo diciamo non ho molto da dire è stato mostrato più volte sul canale taggoi acqua racer orologio che a me piace tantissimo tantissimo sì ma ora qua sta segnando le 10 e 10 e vedo il datario laggiù che è a metà tra un giorno e l'altro cosa è combinato cosa gli hai fatto fare a sto orologio qua eh soprattutto per l'estetica per il quadrante di questo blu graduato a ricorsi orizzontali e adesso ti mostro diciamo i nuovi acquisti acquisti più recenti super questo squale devo dire esteticamente molto bello ha un secondo me un difettuccio la la corona a vite eh rientra male nella posizione nel senso che ti devi un po' rompere le scatole per ritrovare il punto esatto eh nel quale riavvitarla eh per il resto apprezzo molto il quadrante è un orologio anche il bracciale a chicchi di riso è molto carino ehm per il resto diciamo è un orologio apprezzabile con il calibro classico sellita sv200 e al polso sta bene pur avendo un quadrante abbastanza piccolo perché è un 38 mm con ghiera per cui diciamo è abbastanza piccolo ora sta cosa qua del intruppamento perché il termine tecnico è intruppamento della corona che quando la devi avvitare fai fatica magari devi fare mezzo giro indietro poi riavitarla spingere bene e me mi è capitata con diversi modelli eh non è che è così rara come cosa mi è capitato mi sembra con uno zodiac poi non ricordo forse con un laco non ricordo insomma lo vedete nelle recensioni poi non sai mai quando ti capita se è quel modello lì che magari c'è una leggerissima imperfezione di accoppiamento per cui devi spingere bene per avvitarla oppure se sono tutti così di sicuro cosa c'è che in quelli di elevatissima elevata qualità negli orologi di elevata qualità sta cosa non capita nemmeno per sbaglio no faccio un esempio su un Rolex o su un longino a me non mi è mai capitato che la corona non si avviti bene cioè bisogna fare degli sforzi spingi avviti e è tutto a posto no? bisogna fare una statistica vedere ora prendere tutti gli squali vedere se si avvitano tutti bene o se è una caratteristica di tutti che poi non c'è niente di male cioè sarebbero anche fatti sti orologi per essere utilizzati lo regoli una volta lo avviti una volta no? faticando le proverbiali sette camice e poi dopo lo utilizzi per due mesi per tre mesi senza mai bisogno di risvitarla no? siamo noi che abbiamo 14 mila orologi quindi ogni 3x2 svita questo riavvita quell'altro setta riavvita e allora ti rendi conto che magari quello lì se si avvitasse meglio sarebbe meglio ma sono quei squiglie poi ti mostro un acquisto compulsivo fatto prima dell'estate questo bulova oceanografer questo quadrante arancione molto impattante impattante è un acquisto fatto prettamente per l'estate non ci ho riflettuto più di tanto mi piaceva esteticamente un orologio comunque bello solido che si può portare tranquillamente al mare ma certo ti mostro l'ultimo acchiappo che è quello che mi ha dato tantissima soddisfazione ed è questo vulcane mono pusher non rende bene il colore del quadrante il video perché tende più al salmone cercavo un cronografo che avesse dimensioni compatte e non fosse non avesse grande spessore comunque fosse portabile al polso ho visto la tua recensione del black and white precedentemente avevo visto la presentazione in negozio da da giacomo dello stesso orologio l'ho rivisto al watch meeting dal vivo in vetrina e alla fine ha deciso ho deciso di acquistarlo perché proprio l'orologio che faceva per me come vedi per essere un cronografo ha uno spessore molto contenuto è bello alla particolarità del mono pulsante e l'altra particolarità è che è un 50 pezzi mondo per cui è apprezzabile anche per la sua unicità diciamo per cui ho in mano l'orologio che comunque ha un certo un certo valore penso ecco con questi con questo orologio chiudo la mia collezione diciamo l'intenzione sarebbe quella di cercare di risparmiare il più possibile nei prossimi mesi per arrivare all'omega acquaterra però diciamo devo tenere a bada la scimmia perché come sai è sempre in agguato se hai un consiglio per tenere a bada la scimmia per qualche mese in maniera tale che io riesca a accumulare un po di soldini per arrivare all'acquaterra dimmelo pure se hai qualche segreto io non lo so come fare ti ringrazio di nuovo per lo spazio e ti saluto un salutone ciao grazie a te ciao 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 bendala uno dei trucchi che si possono utilizzare quello di bendarla in modo che lei non vede più niente però incomincia quando te la bendi appena gli metti una benda sugli occhi lei incomincia a urlare proprio diventa una simia urlatrice ti urla nell'orecchio proprio sguaiatamente è difficile tenere la bendata e devi sbendarla e lasciare che faccia il suo corso purtroppo è così purtroppo è così devi solo sperare che si che si butti su degli orologini economici in modo che ti consenta poi di risparmiare il resto per arrivare all'acquaterra che non ci hai detto qual è ma sicuramente sarà uno di quelli nuovi a catalogo adesso no non di certo questo bellissimo qua dei primi anni 2000 che fa la sua sporchissima figura detto questo gli orologi ci piacciono tutti soprattutto apprezzo il mono pusher di vulcan il cronografo che mi piace un casino tra l'altro te detto edizione limitata quindi ha più valore valore tra virgolette cioè nel senso che glielo dite il valore glielo diamo noi tu hai questo orologio lo hanno altre 49 persone nel mondo al massimo è tutto lì non è che poi ti può aspettare un che valga di più che lo puoi vendere a mille migliaia di euro no o perlomeno non nel breve periodo un orizzonte temporale lungo magari si può leggermente leggermente ma magari non per non perdere totalmente il suo valore no insomma non stiamo parlando di una casa famosa nota per la speculazione sui suoi pezzi proprio no però è intanto il bello orologio che secondo me va tenuto in collezione per sempre cioè per modo di dire no ma magari fai te per il resto quel voto trovo detto no 7.5 7.5 perché ci è piaciuto tutto a noi ci è piaciuto tutto a cominciare anche da quel dell'oncino che si legge male loris diversi che fa e poi la collega si 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 l'altagoier acqua raser tanta robina quello lì forse mi sono dimenticato di dargli il top ma glielo ad ora il top altagoier acqua raser glielo diamo è il voto te l'ho dato e a posto così ci vediamo la prossima volta buongiorno davide sono massimo da roma a seguirti sul canale ti faccio i complimenti voglio provare a fare anche io un video sulla mia collezione di orologi vediamo cosa ne pensi anche se insomma a me piacciono così come sono quindi li compro principalmente per il gusto estetico forse qualcosa di carino lo troverai anche tu meno male niente allora ti faccio vedere come primo orologio un orologio che ho ricevuto da mio padre che è un cronografo medicale con il pulsometro orologio meccanico semplice non ce ne sono tanti in commercio c'è un fondello con con le sue indicazioni non so cosa sia molto leggero molto pratico o questi che vedrai sono tutti orologi vintage perché ho iniziato ad amare questa tipologia di orologi da qualche settimana mi fa piacere questo dovrebbe essere uno zenith stellina dico dovrebbe perché ancora non ho studiato bene il marchio mi è arrivato con una corona liscia ma una fibbia logata anche se non so se il logo è diverso da quello che c'è sul quadrante ti faccio rivedere eh sì molto pulito o anche il cinturino delle e guarda sì solitamente quella il logo che hai trovato sulla cono c'è una tabella c'è una il logo a quale periodo storico appartiene no quindi solitamente quando c'è quel logo lì sul sulla fibbia poi lo trovi anche sulla corona e sul quadrante in questo caso sul quadrante non c'è c'è una stellina e basta mentre sul sulla corona però non c'è niente quindi non è originale perché ci deve essere per forza quindi di tre di tre indizi non ne combacia nemmeno uno non so cosa dirti potrebbe anche essere capirai i cinturini prendi un cinturino di uno zenith lo metti su uno zenith e sei convinto che va tutto bene no parlo per il venditore magari però andare a vedere bene questo qua sembra abbastanza anche moderno come orologio non sembra poi così vintage vintage ma è quella la forma di quelle sfere lì è già quello dei zenith elite dei primi anni 2000 fine 90 quindi non è che siamo moltissimo in là nel tempo evoca qui peccato che nelle pulizie lucidature è andato via sta andando via il seriale della cassa che adesso si intraveda appena appena da questa parte qui hanno grattugiato ben bene comunque l'orologio molto molto piccolino credo sia un 33 addirittura con i piccoli secondi elegante si porta bene speriamo speriamo che sia tutto tutto a un certo punto poi dovresti aprirlo guardare cosa c'è scritto all'interno del fondello dai inutile stare a cantare per capire poi vedere il calibro cosa c'è scritto dentro per avere un'idea un pochino di quale sia l'elemento sbagliato di quei tre list cioè se ti trovi di fronte a qualcosa di particolarmente strano perché lì il fatto che hanno portato via i numerini incisi nelle scritte c'è anche più dei numerini probabilmente a volte c'è anche surf che vuol dire surface zenith riportava anche più di qualche indicazione vuol dire che hanno grattugiato ben bene quel fondello lì e se me l'hanno grattugiato ben bene mi lascia pensare che anche il resto gli hanno fatto qualcosina di grattugiamento intorno oppure addirittura l'assurdità totale che questa non sia una cassa zenith la sto sparando io avevano un quadrante un movimento magari movimento buono non sia una cassa zenith ma c'era scritto magari qualcosa fuori che non corrisponde con zenith l'hanno tutto cancellato per poi assemblarlo con il quadrante e il calibro ci hanno messo un cinturino zenith e con la fibriata zenith e te l'hanno venduto oh la butto lì e poi io non saprei cosa dire cioè bisogna aprirli gli orologi vintage vanno aperti poi ti faccio vedere un longin calatrava se si chiami così no porco di quel giuda impestato non esiste il longin calatrava calatrava è il modello del patek philippe lo scrivono nelle inserzioni per farti capire che è un orologio tutto pulito semplice no ma non ha senso non ha senso non c'è in calatrava non esiste non è scritto da nessuna parte nessun catalogo nessun modello di orologio non esiste tutti i secondi polsi lui mi è arrivato con una fibbia non non originale ma ho un cinturino con una fibbia lungin originale il fondello è tutto liscio l'ho fatto aprire questo orologio monta un calibro 12 68 z molto bello anche secondo me col cinturino rally così il quadrante qui ho dei dubbi sulla sull'originalità cioè che sia stato ristampato non so se il fatto di avere indici e loghi applicati possa rendere possa rendere no il fatto che uno ha gli indici applicati anzi rende più semplice il fatto di stamparlo perché li togli gli smonti rivernici con quel pennello il quadrante e poi ce li rimetti sopra è più pulito di così non si può però questo lo si vede che tranquillamente dal dalla scritta longin che è storta proprio il font sbagliato le tutte è tutta fuori infatti la cosa più difficile da fare per loro era quella lì nel senso gli indici hanno smontati hanno riverniciato il quadrante proprio veramente senza bianco bianco opaco semplicissimo ci hanno rimesso gli indici sopra e quello più o meno dritti riesce anche a metterli no magari la cosa più difficile rifare la scritta longin e infatti l'hanno fatta storta sbagliata che non ha senso no poi volendo si può anche guardare anche sul rio gli indici che sono spennellati un po qua un po là è ristampato dai ristampato la corona la corona magari non è nemmeno quella originale insomma c'è degli orologi un po così mi sembra di vedere un po azzuffati più difficile diciamo la ristampa di un quadrante ma non lo so un colore diciamo questo color crema potrebbe anche essere ristampato non lo so comunque mi piace bravo o ecco questo questo longin dovrebbe riserire agli anni 70 con il seriale che ho potuto verificare dal tuo sito come 70 e ora li faccio come 70 troppo e troppo no non è gli 70 scusate ma non è l'aspetto di quell'orologio lì non è anni 70 ragazzi non ci siamo cioè 12 68 z un 12 68 z con il seriale anni 70 ho sbagliato a leggere da secondo me non è l'orologio lì non è degli anni 70 su questo ci possiamo mettere a parlare degli anni 50 60 al massimo vedere un cronografo che mi stanno piacendo tantissimo i cronografi vintage questo è un osam osam bilanten osam del 1972 con un calibro valjoux 77 33 ed è del 72 lo dico perché porta sul fondello l'incisione diciamo per i giochi olimpici di monaco del 72 eccolo qua si dovrebbe vedere carino qui il quadrante sono quasi certo che sia virato quindi diciamo originale sembra che a me troppo la corona è liscia o quello lo stesso poteva la riglia è generica al fribbia c'è frega niente però molto bello mi piace molto a me va con una precisione che spacca il secondo bravo bello un osam marchio che non conoscevo assolutamente ma sarebbero io e poi poi vi faccio vedere questo è un omegasy master anche questo era un secondo polso però ecco mi è arrivato con una corona logata il vetro con lente magnificatrice non so se si usava adesso poi non so quanto sia ma la lente non è in risalto e funzionava così diciamo non c'è il bozzetto come magari portano alcuni va bene va bene così che ho visto in giro la fibbia e c'era anche un cinturino adesso non so se sarà al suo comunque un cinturino omega fondello molto bello con l'incisione della si master mi piace molto ora non so se si riuscirà a vedere ma questo vetro porta al suo interno il simbolo dell'omega adesso non ci riuscirò mai comunque c'è il simboletto omega al cielo ora io a vedere la scritta si master la t è veramente piccolina nascosta che va verso il basso si master di solito la t e veniva fuori con la sua stanghetta qua giù nascosta così non vuol dire niente di sicuro se c'è il simbolino al centro perché i plexiglass dell'omega per un certo periodo lì al centro del dove c'è l'albero delle sfere c'è serigrafata no diciamo disegnata mettiamola così il logo di omega quindi è originale questo vetro e la lente magnificatrice è all'interno praticamente del vetro per far ingrandire il numero si c'erano c'erano anche sul day date se non mi sbaglio una lente magnificatrice larga così dentro e peccato per la corona la corona nel senso che è piccola la trovo un po scomoda da gestire è veramente piccolina però l'orologio piace molto sai quanti sono gli orologi vintage con la corona piccola che si fatica l'ultimo l'area visto che ti dicevo che iniziano a facermi i cronografi qui posso chiederti un tuo aiuto questo dovrebbe dico dovrebbe uso il condizionale essere un wittnauer all'interno c'è un calibro palju 23 dovrebbe risalire agli anni 1965 anche se ho letto il seriale che c'è non sul movimento bensì sul fondello questo dovrebbe essere una referenza 800 e ho letto che i seriali wittnauer sono comunque ricompresi nei seriali lungin in realtà quel seriale che è un 6.200 e rotti non mi risale dall elenco coprista 65 ma dovrebbe essere antecedente 6.000 lungin 6.000 non ce li ha se mi dici 6 milioni e qualcosa ci posso credere ma 6.000 non esiste perché 6.000 sarebbe se il 6 millesimo orologio e quando l'ha fatto nel 1800 e qualcosa 6 milioni che corrisponde se non mi sbaglio 6 milioni agli anni 40 50 anzi anche prima 6 milioni anche prima degli anni 40 non lo so non so se è valida la teoria per la quale io dico di no cioè non ha senso che il seriale di un wittnauer che era l'importatore americano di longin abbiano gli stessi la stessa datazione dei longin longin lo faceva internamente con un proprio elenco con un registro ecco la parola giusta il registro nel quale insegnava manualmente perché quel tempo i seriali che uscivano la produzione ma figurati se il wittnauer riusciva ad andare in per meno però buco darsi non è che sono quelle espertona bellino come un orologio bellino dai conosci che ne pensi allora questi indici dovrebbero essere in oro bianco ma non lo so onestamente non è il motivo per cui l'ho comprato piccolino fondello d'orecagonale mi piace anche queste anze così molto bello ci piace porta molto molto bene questo è l'ultimo arrivato e poi sempre in tema vintage anche se è un orologio moderno ma che richiamo un po il vintage bellino ho questo mido multifort patrimoni questa è un rivocazione perché diciamo la scritta mido è in stile dell'epoca ok ho raggiunto il tempo massimo ti saluto da roma ciao e grazie di tutto ciao 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 guarda qua un amico del canale che eligio al dovere quando vede che siamo a 6 minuti e 57 si ferma saluta bravo te hai vinto il premio della critica come come miglior video nel senso per lo meno come esecuzione da per il resto ci abbiamo tutti orologi vintage simpatici un po messi qui un po messi lì corona che si sa quadrante ristampato quest'altro non si sa quell'altro boh quell'altro è il mondo del vintage è così e non è che bisogna comprare tutti gli orologi perfetti con scatola garanzia e tutti intonsi perfetti è così ti capita quello con la corona che non c'è l'isola che non c'è la corona sbagliata la fibbia sbagliata e quadrante ristampato poi se vuoi puoi evitarlo se non puoi anche accettarlo cioè dipende dal grado di tolleranza personale te ne può fregare di meno come ti può interessare quant'è che te può fregare di meno se magari di un orologio come ho fatto io quando ho preso l'allogine ad mirare ultimamente no c'era quello con la corona originale quello con la corona non originale liscia no allora quel punto lì perché devo prendere quello con prendo quello con la corona originale dipende un po come sono le situazioni no siete un orologio lo vuoi quel modello ma non lo trovi mai non c'è mai non c'è mai poi lo trovi una volta con la corona non originale e lo prendi uguale no poi la corona si può sempre cambiare devi attivare qualcuno il tuo orologio io dirgli oh me la trovi anche lì poi dopo è un altro paio di maniche però si può fare tutto no quindi vanno bene vanno bene dai prendiamoli per quello che sono però ti do un 6 e mezzo non è che mi allargo tantissimo un 6 e mezzo oggi sono un po di manica stretta me lo sento quindi stiamo 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 stretti va bene dai buongiorno davide ciao sono cristian nella provincia di torino torino e questo penso sia il terzo video che ti mando dove ti farò vedere altri sei orologi della mia collezione vai spara lì fatto partire il tempo sul crono quindi vediamo di non sforare i sette minuti partiamo anche te bravo 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 seiko skx 007 orologio conoscitissimo da tutti gli appassionati di diver e non bel centurino ce l'ho comprato recentemente perché l'ho trovato in condizioni ottime e quindi non me lo sono fatto sfuggire anche vedo che la moda del del nato single pass messo così passando sotto e via sta prendendo piede torna meglio è più comodo così no non alza la testa sul polso dello spessore e poi ti ritrovi la chiusura al centro qua meglio di così altro un buon prezzo rispetto le cifre che che girano oggi orologio sempre verde che fa sempre piacere indossare ma certo sempre verde sembrava verde passiamo a un altro seiko questo un pelino più prestigioso è un baby mariner master 200 metri bello una edizione limitata di qualche anno fa con questo quadrante verde soleil petroglio verde petroglio indici e sfere dorate cassa da 44 mm però molto indossabile anche per polsi non giganteschi ma certo orologio molto fascinoso a mio parere affascinante adesso passiamo a una acquisizione recente citizen su josa come quadrante versione fatta per i vent'anni di un famoso form di orologeria ecco perché non ho mai visto con quadrante rosa ramato è ramato salbonato diciamo che cambia in base alla luce del sole bello anche questo orologio conoscitissimo dagli appassionati nel tuo canale ecco questo orologio mi ha stupito perché non l'avevo mai preso in considerazione finché poi ho avuto la possibilità di prendere questo qui per i vent'anni appunto del forum e devo dire che mi ha fatto una buona impressione comunque un orologio che ha un rapporto qualità prezzo secondo me ottimo e certo peccato che il movimento sia il miota 8000 base messo già qua in questa versione il 9000 sarebbe stato meglio ma tant'è lo facciamo piacere uguale citizen così fa così poi passiamo a cosa a un cronografo anche questo un'acquisizione recente bravo e bel 19 11 calibro 137 quindi questo non monta nel primero ma monta il calibro di derivazione le mania che all'epoca era stata acquistata da ebel quindi ebel ha preso il calibro diciamo del moon watch e ha montato l'automatico l'ha modificato modificato tutti in house per rendere appunto il movimento da carica manuale automatica e questo orologio oltre ad avere un bracciale morbidissimo e comodissimo ha anche un bel movimento sempre appunto su base le mania modificato da ebel i più puristi sono orientati proprio quanto riguarda il 19 11 di ebel ad acquistare quelli con cavi dei brodi di derivazione zenith è il primo che hanno sicuramente quotazioni più importanti io ho trovato questo praticamente un fondo di magazzino completo di scatole documenti ha un ottimo prezzo e non me lo sono fatto scappare bravo adesso passiamo un altro cronografo omega speed master versione automatica date con calibro di derivazione eta 7750 questa è una versione particolare con questo quadrante con numeri arabi ah già fatta per il mercato giapponese bellino quadrante color blue jeans luci non è veramente magnetico anche la lavorazione del quadrante particolare anche questo acquistato con suo corredo completo scatola garanzia qui c'è il fondello chiuso per fortuna aggiungo io certo si è sempre vero fondello omega speed master orologio grazioso io possiedo anche il tipico mousse watch con calibro 861 mousse watch tradizionale mettete la s è una buona alternativa quando si vuole variare un pochettino e poi ripeto a me il blu piace molto come colore sugli orologi secondo me questo è un bellissimo quadrante si si è promosso adesso ultimo orologio di oggi cos'è cos'è rolex gmt master 16 75 del 1972 mamma mia che bello questo è uno degli orologi da cui ho più tempo in collezione è uno dei miei orologi preferiti in assoluto non tanto perché sia un rolex ma proprio per il tipo di orologio per l'indossabilità della portabilità che ad esempio i rolex moderni secondo me sportivi non hanno perché sono diventati dei veri e propri mattoncini anche questo comunque nonostante i 52 anni di età si è conservato perfettamente lo uso con parsimonia comunque lo usano non lo tengo a fare la muffa in cassetta ogni tanto lo tiro fuori gli faccio prendere un po d'aria ed eccoci qua allora per oggi è tutto è tutto bravo siamo a sette minuti ora quindi tocchiamo reset bravo saluto te saluto gli amici del canale è lo love 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 tutto bello bello ciò che però a me mi lascia un po perplesso il fatto che ha detto che le mania era stata acquistata da ebel e secondo me non è così perché le mania già dal 1932 faceva parte del gruppo omega e ti so quindi le mania che facesse poche fu acquistata da ebel non mi risulta il calibro 137 di quel bel cali di quel cronografo di che hai fatto vedere altri non è che le mania 1340 nel quale mi sembra che però ai minuti coassiali no incentrati sul sul perno centrale del quadrante mentre qua li hanno spostati su un sottocontatore però ripeto beh bello bell'orologio tutto quello che vuoi ma secondo me le mania non fu acquistata da ebel poi detto questo il resto degli altri orologi sono simpaticissimi simpaticissimi cosa beh l'omega date automatico il rolex gmt che tanta robina io ti do un 7 per tutti questi orologi di più non posso darti perché come ho detto oggi sono un pochino di manica stretta particolare particolarissimo è quel citizen su yosa con il quadrante con bello mi piace il quadrante lì con le striature verticali con quel colore ramato e realizzato per il forum non lo sapevo è la prima volta che vengo a conoscenza di questa limited edition dedicata al forum italiano quindi è disponibile solo in italia non so nemmeno quanti pezzi ne abbiano fatti certo non mi piace la scrittina op sul quadrante che però è quello che lo caratterizza no poi queste limited edition qua poi a volte ho visto gli orologi re messi sul mercato secondario e magari anche a prezzo maggiorato perché sono edizioni realizzate per il ventenale di un forum o per una data occasione di quel forum lì lascia un po il tempo che trova questa questa speculazione però bello quello insomma un 7 tondo tondo te lo sei meritato e siamo tutti contenti buonasera davide buonasera a tutti gli amici del canale sono Lorenzo dalla provincia di Livorno c'eravamo sentiti qualche mese fa per il video della mia collezione ma nel frattempo la scimmietta sulla spalla non ha fatto altro che chiedere noccioline per cui molti pezzi se ne sono andati e alcuni sono entrati in collezione bravo intanto vediamo qua c'è gli scacchi c'è gli scacchi che è un bel gioco è un gioco veramente violento gli scacchi veramente qualcosa di aggressivo è anche se siete due persone sedute una di fronte all'altra in silenzio è aggressivissimo come gioco cioè proprio tende a annientare annichilire il prossimo e poi c'è questa bellissima scatola di orologi che è già la seconda anche nel primo video c'era questa scatola qua che i ragazzi è quella che anch'io ne ho quattro di queste scatole qua perché sono quelle con cui mi trovo meglio con quei cuscini morbidi che poi c'è molto spazio tra una parete e l'altra ci puoi mettere anche gli orologi da 45 mm 46 che in altre scatole non accade i cuscini sono morbidissimi per cui ci puoi mettere anche orologi con il bracciale corto no che sennò ballano certe qua ce lo puoi mettere perché il cuscino si restringe è perfetto sono perfette meglio e poi c'è anche porta orologi da viaggio la ce l'ho anch'io così mi sembra da due ce l'ho o da uno addirittura belli 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 il primo dei quali è stato questo omega speed master reduce 2 bravo due perché la referenza prodotta tra il 2008 e il 2010 all'incirca prima che riduce uscisse dal catalogo mega e a differenza dei più comunemente visti sul canale questo ha il vetro in zaffiro ha una impermeabilità di 100 metri però non ha i numeri arabi agli indici e ai due puntini all'indice ore 12 per il resto la cassa è identica alla referenza precedente così come bracciale a parte nell'elemento della clasp capito l'orologio che come sappiamo in cassa un calibro a panino che non gode della tua simpatia però devo dire che sul mio polso da quasi 17 cm sta d'incanto non è che non gode della mia simpatia a volte mi travisate con quello che penso cioè io volevo comprare l'omega dynamic crono con questo calibro qua figurati un po gode la mia simpatia non mi è indifferente nel senso che poi quando se succede qualcosa che andrà revisionato e si porterà e quello che sarà quel che sarà sarà come dice la canzone non è che non apprezzo questo il reduced proprio come come forma come stile perché è veramente una sorta di voler imitare il moon watch però con caratteristiche inferiori no preferisco come abbiamo visto anche prima lo speed master automatiche che dentro la 77 50 è una disposizione dei contatori completamente differente lo preferisco lo preferisco cerca di essere un po differente almeno dal moon watch solo per quello non per il calibro dopo questo omega è arrivato questo khaki field mechanical da 38 mm e ci piace bianco l'ho preso bianco perché come vedi gli orologi della mia collezione hanno quasi tutti il dial scuro hai fatto bene mi è arrivato con il suonato e poi successivamente ho comprato il bracciale e devo dire che tutto sabbiato così restituisce un feeling da tool watch che me lo fa piacere molto ce l'ho avuto anch'io così con questo con questa finitura sabbiata e il quadrante nero tutto sabbiato così e io a un certo punto poi l'ho venduto perché mi dava la sensazione di plastica ora io capisco no è solo questione di gusti di sensazioni personali di sensibilità perché io ogni volta che lo vedevo mi sembrava di plastica mi sembrava uno swatch di plastica con tutta questa questo acciaio sabbiato opaco no mi dava fastidio quindi l'ho venduto per quello ovviamente sottilissimo incassando l'h50 a carica manuale e devo dire che un po gli indici vintage mi hanno stancato ma non sa se rimarrà in collezione oppure no è bello così dopo questo emilton la scimmietta sulla spalla si era accorta che non avevamo un orologio di forma dopo tante tribolazioni ricerche sono approdato a questo tisso stylist degli anni 70 te lo approvo te lo approvo anche se ci sono i numeri romani in questo caso è proprio lo stile dell'orologio con questa cassa così forma tonno diciamo rettangolare quadrangolare insomma la forma lì che vedete ci stanno gli numeri numeri a romani così c'è una mancanza che potrebbe anche uccidermi che era quella delle sfere a secondi però numeri romani manca la sfere a secondi però dico la verità io lo indosserei volentieri e lo farei anche in collezione un orologio così ma mi sbilancio anche a bello in condizioni devo dire eccellenti una buona occasione ha anche la sua corona logata sottilissimo ovviamente a carica manuale un vero e proprio dress watch perché non ha neanche la lancetta dei secondi vi ho abbinato questo cinturino in vacchetta ma con effetto vacchetta molto sottile che al polso restituisce un buon feeling certo e lo apprezzo soprattutto per i riflessi del suo quadrante soleil bravo ci piace come si suol dire poca spesa buona resa tanto dopo questo tisso la scimmietta mi ha messo in testa un'idea una buona idea ma comunque un'idea dispendiosa e mi mi ha chiesto di smettere di fumare per fare arrivare come contrappasso questo orologino rolex oyster perpetual da 36 mm mi sembrava grande per il mio polso non ha bisogno di molte presentazioni un orologio versatile che si presenta che si presta ad essere utilizzato in ogni occasione sottile una cassa dalla forma super riconoscibile e mi dà tanta come si suol dire soddisfazione bravo dopo questo qua la scimmia addirittura è arrivata a chiedere un orologio per la palestra quindi perché tarlo ho comprato questo g shock lo speed master in palestra visto che ci siamo approfitto per chiederti diciamo la valutazione complessiva della mia collezione ricordandoti gli elementi che già visto ovvero il mio tudor black bay 58 blu il targoia carrera calibro 5 colorazione grigia e gli orologini di famiglia che sono questo seico degli anni 60 carica manuale che era del mio nonno al quale ho riabbinato il suo bracciale originale dopo tantissime ricerche mi è costato una follia in rapporto all'oggetto che però sono stato felice di di ricostruire l'aspetto originale di questo orologio bello bello il lorenz al quarzo in oro massiccio del mio babbo e l'altro seico del mio nonno seico quarzo degli anni 80 tanti come ti avevo detto avrei fatto ristrutturare appunto così restaurare così ho fatto ora funziona benissimo cambiato il vetro rimesso uno originale ma non nuovo va bene va bene mi raccomando si generoso con la valutazione ormai lo sappiamo che il voto del cecchini può far schizzare in alto la valutazione economica di ogni collezione un saluto a tutti gli amici del canale e soprattutto a quelli del gruppo telegram love love ma te ti droghi te ti droghi pesante va bene comunque ti diamo un bel lotto sei contento l'otto switcho la manica larga adesso un bell'otto bell'otto perché a me sinceramente mi piacciono tutti i tuoi orologi devo essere sincero non ce n'è uno che non ora ho visto quando ho visto quel lorenz al quarzo no vabbè è un lascito però d'oro massiccio poi doveva d'oro massiccio minchia sono stati a spendere dei soldi per un lorenz che assomiglia al degia sta il quarzo però magari il periodo era però tutto d'oro massiccio probabilmente quell'orologio lì vale più l'oro che compone la cassa che il resto belli poi poi c'era quel secco a sinistra alla fine quel secco quarzo che mi sembrava che avesse la scritta storta io stavo anche per fermare per dirtelo poi non riuscivo a capire se era un effetto ottico boh sembrava storta però secco anche quel secco quarzo lì degli anni 80 mi ha ragione di esistere proprio nella collezione tanta roba tutti tutti i begli orologi poi mi usi il g shock per andare in palestra e no no ti sei preso il g shock per andare in palestra no io ci vado con lo speed master in palestra no per prendere tempi e te c'è il reduced cavoli usalo per qualcosa e tra l'altro anche il mio è manuale quindi anche se faccio gli esercizi lui non ne risente no perché lì carica manuale te c'è quello automatico quando fai gli esercizi lo carichi a manetta lo carichi non ti carichi te si carica lui cioè usa usali gli orologi sennò il g shock quindi passi una mattinata intera magari con quell'orologio lì quando avessi potuto dedicare quel tempo ad uno di questi simpatici orologi che hai poi l'oyster perpetual da 36 è bello mi piace più lo vedo più la semplicità dell'oyster perpetual incomincia no vabbè però da quello da 41 è da 39 in realtà te l'hai preso da 36 io ora a vederlo lì ho detto ma da 36 chissà come starebbe sul mio polso secondo me troppo piccolo da 36 per me quello da 41 è in realtà da 39 sarebbe un po più adatto però è bello quando vedi bracciale oyster così tutto pulito perfetto un design che senza tempo ma ci piace tanto ma l'otto te l'ho dato quindi la tua collezione è schizzata in alto e cosa facciamo quando la prossima volta che la scimmieta ti dice di venderli no lei vedrai che ti dirà anche mi che devi dare qualcosa a calcecchini e fai un piccolo paypal verso di me con il 10 per cento è sufficiente va bene buongiorno davide ti volevo far vedere la mia piccola collezione di orologi lo stiamo perdendo sono riccardo da perugia e parla poi più partiamo con questo vecchio winchester degli anni 80 che è un regalo basta il letto ci fai vedere poi questo è un quarzo ma ce l'ho e lo tengo ma certo ma ti stiamo perdendo serve mica una un altro massaggio cronostar cronostar quarzo tanta roba questo sarà anni 2000 si vede che è un po datato come aspetto di non parlare troppo parlo io è il primo automatico dove li mettete gli orologi te te metti la portata di mano che è un 6.5 dove ce li ha eccolo qua alla rovescia classico a rovescia perché andiamo su un lorus un lorus 42 mm bello simpatico che effetto blu noi andiamo su un altro lorus un altro lorus anche sto qua 42 guarda la data dove 43 43 43 scusate oddio me poi invicta invicta ci voleva l'invictino lì simile submariner anni siamo mia qua non ci siamo noi andiamo su guarda di quanti soldi abbiamo speso per degli orologi così un vagari di citizen un vagari proprio lorus e vagari che sotto seiko sotto citizen eh sotto seiko sotto citizen uno ma non tutti questi oh ma scheletrato oddio si può guardare sempre 42 42 mm scheletrato dress così e per finire per finire l'ultimi due oh un tiso da 39 39 tiso l'elocchio bravo ti sei salvato con questo bellino assai dai e poi l'ultimo dai ancora un po più su dai 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 stupiscimi un emilton ci siamo dai 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 ciao fammi sapere cosa ne pensi cosa ne penso ciao penso che stai per morire cioè sei senza fiato sei lì che sei in un momento di 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 mamma mia se dovete fare i video così di nascosto dalla moglie non fateli nemmeno anche perché non è la moglie da cui dovete nascondervi è la scimmietta e la scimmietta è lì è lì sempre con voi che vi guarda che vi guarda io qua ti posso dare un sei stream in sito eh ti sei salvato quel tiso l'elocchio e con l'emilton lì cos'era un jazz master alla fine poi vagari l'horus quarzoni contro quarzi senza nemmeno una spiegazione per dirmi perché l'hai scelto ma tu mi spiegassi mi dicessi eh questo qua l'ho preso perché l'ho preso dieci anni fa questo perché volevo mi piaceva ma se possono l'uovo da 42 mm scheletrato l'horus da 43 mm bianco con il day date al centro no non ci siamo non ci siamo poi ti ripeto perché non mi hai spiegato le motivazioni se tu mi dicessi le motivazioni magari potrei anche crederci e dirti oh ma sì mi hai fatto bene no ma se non mi dici niente me li butti lì così uno dietro all'altro eh raffica mi viene quasi voglia di partire con lo schiocco delle dita non ci parto perché sono tutti orologi dai decenti però più di sei non posso dare ragazzi non è che io eh devo farmi prendere dal dalla tenerezza perché io sono una persona di cuore no sono tenero e quando vedo queste cose mi verrebbe voglia di darti dieci mi verrebbe voglia però non posso cioè devo ho anche un una certa diamontologia che mi impedisce di barare quindi lo sei streaming zitto eh ora io poi basta basta dopo questo basta adesso vado a vedere i gattini su instagram così mi tiro un po' sul morale magari mi metto un paio d'orologi una destra una sinistra così mi riprendo un po' e poi torniamo qua per un'altra puntata no però quando ci torniamo eh eh quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love mi riprendo un po' e poi torniamo a vedere i gattini sui